Tifosi dell'Inter, preparatevi ad un'altra novità di mercato, l'Inter continua a monitorare la stella Roberto Firmino per la prossima stagione, ma un concorrente sembra essere uscito dalla competizione. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel canale delle notizie dell'Inter. Abbiamo una notizia importante da condividere con voi, il club è ancora alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e un concorrente nella contesa per la stella Roberto Firmino sembra essere scomparso. Vi racconteremo tutto nei prossimi minuti. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per non perderti nessuna notizia da queste parti. Andiamo! La notizia ha colto di sorpresa molti tifosi, visto che Firmino è oggi uno dei giocatori più talentuosi. Il suo entourage lo ha offerto al Barcellona qualche mese fa, ma le trattative non sono andate avanti. Secondo fonti vicine al club catalano, Firmino non rientra nel profilo che il Barcellona sta cercando per la prossima stagione, il che ha fatto sì che l'offerta fosse respinta. Con questo, l'Inter tira un sospiro di sollievo, avendo un potenziale concorrente in più per competere per l'atleta. La ricerca di rinforzi è una delle priorità del club per la prossima stagione, e Firmino sarebbe una grande aggiunta alla rosa. Tuttavia, la concorrenza per lui ha guerrita e l'Inter è pronta ad affrontare grandi sfide per portarlo al club. Lascia il tuo mi piace per rimanere aggiornato qui. Intanto continua la caccia al vice Lewandowski, e l'Inter resta ferma nella ricerca di nuovi rinforzi. La squadra ha già qualche nome in vista, ma il direttivo sa che la concorrenza è grande, e sarà necessario agire in fretta per garantire i giocatori migliori. Ai tifosi dell'Inter resta da seguire con attenzione le novità di mercato e sperare che il club porti grandi nomi per la prossima stagione. Credi che Firmino sarebbe una grande aggiunta all'Inter? Quali altri giocatori vorresti vedere vestire la maglia dell'Inter la prossima stagione? Commenta qui sotto. Lascia il tuo like al video e iscriviti al canale per ricevere le prossime novità. Alla prossima, tifosi nerazzurri!